La partita è aperta, vinceremo al ballottaggio, non usa a mezzi termini il candidato del centrosinistra Carlo Salvemini che ha affidato ad un comunicato stampo alcune riflessioni dopo il primo turno elettorale che ha spianato la strada, ma non è ancora certo, al ballottaggio. Per il sindaco in carica il voto ha restituito un segnale chiaro, la partita è apertissima e si resta in attesa che si chiudano le operazioni di verifica sulle quattro sezioni non ancora definitive per dare il massimo nei prossimi 15 giorni. Salvemini ringrazia Leccesi che al primo turno sono stati al suo fianco con affetto e compassione, dice, una forza che ha definito determinante per il risultato raggiunto e lo sarà, scrive ancora di più per il secondo turno e proprio a loro si rivolge dicendo di continuare a mobilitarsi e che non esiste alcun rischio di anatrazzoppa pur evocato per strategia propagandistica dal centrodestra. Salvemini conclude dicendo di essere pronto a ribaltare il risultato e a vincere per andare avanti insieme ai cittadini leccesi. L'esito delle urne del primo turno consegna così la possibilità portata di mano di confermarsi al governo della città per dare seguito, scrive, a quella bella stagione di cambiamento che sta portando Lecce nel futuro.